oggi con paolo focacce e napoletane queste sono le dittine di paolo guarda che spettacoli com'è paolo eccezionale un prodotto sicuramente consigliatissimo buon appetito in onora stefano callegari la caccia e pepe con cottura a ghiaccio paolo a prezzi assolutamente sì ottima pizza io tantissimo mi hanno fatto un po per scherzo per prova e l'abbiamo azzeccata diciamo ciao